Ciao a tutti e bentornati su Alpaca Cycling. Il video di oggi è tratto direttamente da un articolo che ho pubblicato sul mio blog personale spanzotti.it e ha come argomento la sicurezza stradale. La frase Ema ti ho chiesto scusa è tratta direttamente da un episodio che mi è capitato qualche tempo fa. Ero a bordo della mia Vespa che tornavo dal lavoro e nella stradina che porta al garage una signora non rispettando la precedenza mi ha tagliato la strada con la sua autovettura. Per fortuna andavo molto piano e ho avuto sia lo spazio che il tempo di fermarmi in sicurezza e quindi di non finirle addosso. Non ho reagito in nessun modo se non quello di scuotere il capo in segno di disapprovazione e la signora vedendomi scuotere la testa ha tirato giù il finestrino con ancora il telefonino all'orecchio e mi ha gridato Ema io ti ho chiesto scusa. In quel momento nonostante l'adrenalina dovuta alla paura e alla conseguente incazzatura non so neppure io in che modo ma mi sono trattenuto ho sollevato la visiera del casco e ho risposto guarda ti ringrazio per le tue scuse ma ho rischiato di farmi veramente molto male. Sono poi ripartito e sono andato in garage a casa. Una volta salito su ho riflettuto molto a quello che era successo e appunto al fatto che potevano esserci conseguenze estremamente gravi ma non solo questo per chi si muove in bici o in moto in scooter in città è una cosa quasi quotidiana. Quello che mi ha fatto tanto pensare è il fatto che questa signora mi abbia risposto anche molto stizzita ti ho chiesto scusa quindi secondo lei il problema era risolto. Il fatto che non mi rispetti una precedenza che parli al telefonino nonostante tutte le tecnologie che ormai ci sono sulle automobili secondo lei con una semplice scusa era tutto risolto. Ora a me questa cosa era già capitata tempo fa in bici da corsa tornando da un allenamento e anche in quel caso ho evitato all'ultimo un mega sub volete per fortuna volete per prudenza mia o chiamatela come volete però anche in quel caso mi fu risposto con una frase simile ti ho chiesto scusa adesso va bene riconoscere il proprio torto ma questo non cambia la situazione potevano causare a me o comunque a chiunque si trovi in queste condizioni dei danni gravi se non addirittura fratture o ancora peggio la morte. Troppo spesso si dia per scontato il fatto di essere in strada maneggiare un veicolo o andare in bici o camminare a piedi. Il messaggio che voglio dare è quello di stare attenti a ogni singolo secondo perché anche solo l'attraversare la strada guardando il cellulare o peggio guidare un mezzo essendo distratti e non guardando la strada guardandosi intorno può causare danni veramente molto gravi ad altre persone o ad animali quindi dal momento in cui varcate la soglia di casa qualunque sia il mezzo che state adoperando le vostre gambe una bicicletta uno scooter una moto un'automezzo o qualsiasi cosa prestate attenzione se proprio non potete fare a meno di rispondere al messaggino alla telefonata o di pubblicare una storia su instagram accostate fatelo in sicurezza mettetevi in un luogo dove non potete nuocere a qualcuno e a voi stessi. Io come al solito vi ringrazio per il tempo che ci dedicate se il video è stato di vostro gradimento mettete un like e condividetelo iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo alla prossima ciao ciao